Ciao, sono William e adesso vi racconterò la fiaba di Pollicino. C'era una volta, tanto tempo fa, un casotto isolato e vicino alla foresta nera, dove vivevano un povero boscaiolo, sua moglie e i loro sette figli, tutti maschi. Era stato un anno di carestia e ultimamente il boscaiolo non riusciva a guadagnare abbastanza da portare cibo a sufficienza per sfamare tutta la famiglia. Il boscaiolo era un uomo rude e molto irascibile. Una sera, capendo che il giorno successivo non avrebbe avuto di che sfamare se stesso e di conseguenza tutta la famiglia, prese la moglie e le disse. Non abbiamo in casa più cibo nemmeno per arrivare a sera. Ho deciso che domani porteremo nel bosco i bambini e li abbandoneremo, così almeno noi due ce la caveremo. La moglie, inorrivita per quella dura e crudele sentenza, si mise a piangere disperata. Cercò di convincere il marito a non abbandonare i loro figli, ma l'uomo fu irremovibile. I due non si accorsero però che, sotto al tavolo della misera cucina, stava rannecchiato Pollicino, il più piccolo dei loro figli, che era talmente minuscolo da potersi nascondere ovunque, senza essere scoperto. Pollicino, sentendo discutere animatamente i genitori, volle scoprire di cosa stavano parlando. Nel sentire quelle terribili parole Pollicino, che era tanto piccolo quanto intelligente, capì che doveva fare qualcosa per salvare se stesso e i suoi fratelli. Corse fuori di casa fino al vicino ruscello e iniziò a prendere tanti piccoli sassolini bianchi, fino a riempire il tascapane che portava sempre con sé. Poi tornò a casa e si mise a dormire nel suo lettino. Il mattino seguente il boscaiolo e la moglie presero tutti i loro bambini e li portarono nel bosco con la scusa di farsi aiutare a raccogliere la legna. I bambini, che non immaginavano le reali intenzioni dei genitori, partirono entusiasti. Tutti, tranne Pollicino, che si mise in coda il gruppo. Pollicino, senza farsi vedere, ogni tanto lasciava cadere sul sentiero uno dei piccoli sassolini bianchi raccolti sul greto del fiume. Certo che l'avrebbero aiutato a ritrovare la strada di casa, una volta abbandonati nel bosco. Dopo una lunga camminata fin dentro il cuore della foresta nera, il boscaiolo e la moglie dissero ai bambini di fermarsi a raccogliere tutte le frasche e i rametti che potevano, mentre loro sarebbero andati a raccogliere legna lì vicino. Non muovetevi da qui, disse con voce ferma il loro padre. Noi torneremo presto a prendervi. E così il boscaiolo e la moglie sparirono tra gli alberi della foresta. I bambini, che non sospettavano nulla, iniziarono felici a fare il loro dovere finché non arrivò quasi sera e i loro genitori non si erano ancora fatti vivi. Tutti i fratellini a poco a poco iniziarono ad avere paura. Poi alcuni di loro iniziarono a piangere finché non intervenne Pollicino. Fratelli miei, non preoccupatevi, io so come riportarvi tutti a casa, seguitemi. E con sicurezza iniziò a camminare spedito nel bosco seguendo la traccia dei sassolini lasciati a terra. Prima che il buio impedisse loro di vedere il sentiero furono di nuovo a casa. La madre, non appena li vide, corse ad abbracciarli tutti, piena di gioia. Il padre invece sbuffò e inventò la scusa che si erano persi pure loro nella foresta e non erano più riusciti a trovarli. Ma dopo aver aspettato che tutti i bambini fossero a letto a dormire, il boscaiolo riprese la moglie e le disse nuovamente. Non possiamo assolutamente permetterci di mantenere tutti quei bambini. Domani li porteremo in un altro punto della foresta, più lontano ancora, e li abbandoneremo. La donna spense tutta la gioia che aveva provato nel riabbracciare i suoi piccoli e, chinando il capo, cercò di nascondere le lacrime che scendevano sul suo viso. Pollicino, che aveva sospettato una nuova decisione del genere da parte del padre, era rimasto sveglio e si era messo a origliare dall'altra parte della stanza. Sentendo quelle parole, decise di ritornare al fiume a riempire il tascapane di Sassuolini, ma purtroppo trova la porta di casa sprangata e non poteva uscire. L'unica cosa che trovò fu un piccolo pezzo di pane era fermo. Con quello poteva fare piccole briciole per segnare il sentiero. Il mattino seguente, con un'altra scusa, i genitori presero i loro figli e li portarono ancora più in fondo nella foresta nera, in un punto in cui anche la luce faceva fatica a passare tra le fronde degli alberi. E li abbandonarono di nuovo. Come il giorno precedente, i bambini in un primo momento rimasero sereni, ma non ci misero molto a comprendere che erano stati di nuovo lasciati soli. Pollicino, sicuro di sé, li radunò tutti e li tranquillizzò, dicendo che li avrebbe ricondotti a casa e si mise a cercare le bricioline che aveva lasciato sul sentiero. Ma non riuscì a trovarle, perché gli uccellini si erano mangiati tutte le bricioline di pane. Impauriti e disperati, i sette fratelli, iniziarono a vagare per la foresta. Stava arrivando la sera, quando a Pollicino venne un'idea. Si arrampicò fino in cima ad un albero per vedere meglio la direzione da prendere. Con sorpresa vide che poco distante c'era una casa con le luci accese e il comignolo fumante. «Ho trovato una casa, fratelli! Andiamo a chiedere ospitalità per la notte!» esclamò Pollicino. E così si incamminarono. Giunti alla casa, Pollicino bussò. Poco dopo apri la porta un'orchessa che, guardandoli con meraviglia, chiese «Cosa ci fate qui, bambini?» «Ci siamo persi nel bosco, abbiamo freddo e fame e non sappiamo dove passare la notte», rispose Pollicino. «Ma questa è la casa di un orco, ghiotto di bambini! Se vi trova, vi mangia!» disse preoccupata l'orchessa. «Moriremo comunque distenti qui nel bosco se lei non ci aiuta. A questo punto meglio essere mangiati da un orco», concluse Pollicino. L'orchessa, impietosita dagli sguardi spavoriti dei bambini, disse «E va bene, entrate svelti, vi darò da mangiare e vi nasconderò». E così fece. Poco dopo, l'orco rientrò a casa annusando l'aria con soddisfazione. «Senti, senti che bello odorino di bambini paffuti e grassotelli che c'è nell'aria! Moglie, volevi farmi una sorpresa?» E si precipitò subito ad aprire la porta del ripostiglio dove erano nascosti tutti i fratellini. L'orchessa tentennante rispose «Sì, mio caro, ma li mangerai domani. Per stasera ti ho già preparato un'abbondante cena». L'orco sorrise beffardo e si mise a cenare. L'orchessa prese Pollicino ai suoi fratelli e li accompagnò a dormire. Nella camera erano presenti due enormi letti. In uno stavano dormendo le sette figlie degli orchi. Nell'altro avrebbero dormito i sette fratelli. Le piccole figlie degli orchi erano amate dal loro padre come fossero principesse, tanto che ognuna di loro aveva in testa una graziosa coroncina intrecciata. Pollicino notò la cosa e la tenne a mente. Dopo averli messi tutti a letto, l'orchessa chiuse la porta della stanza. Pollicino aveva un brutto presentimento e chiese ai suoi fratelli di scambiare i loro berretti con le coroncine delle piccole orchette. Le preoccupazioni di Pollicino erano ben fondate perché, quando ormai stavano tutti dormendo, sentì aprirsi piano piano la porta della stanza. Era l'orco che nel buio era venuto a prenderli. L'orco, ben sapeva che le sue bimbe portavano una coroncina in testa, quindi nel buio si mise a tastare le testoline dei sette fratelli e, sentendo le coroncine, si spostò spedito verso l'altro letto. Aprì un sacco e, credendo di prendere i bambini, vicettò dentro invece tutte le sue figlie. Poi uscì dalla stanza. Pollicino svegliò i suoi fratelli. Svelti, svelti, è il momento di scappare! I bimbi fuggirono via dalla finestra. Per fortuna c'era la luna piena ad illuminare il sentiero nella foresta. Non passò molto tempo che l'orco, aprendo il sacco, si accorse di aver preso per sbaglio le sue bambine. Infuriato come non mai, si infilò i magici stivali delle sette leghe e partì all'inseguimento di Pollicino e i suoi fratelli. Gli stivali delle sette leghe consentivano di fare decine di metri per ogni passo fatto e, in breve, l'orco si era avvicinato moltissimo a Pollicino e i suoi fratelli, senza però raggiungerli. Purtroppo gli stivali erano tanto portentosi quanto stancanti e l'orco, dopo aver corso per alcuni minuti, si fermò stremato a riposare appoggiato al tronco di un albero e, siccome era nottefonda, si addormentò. Pollicino, sentendo russare sonoramente l'orco, decise di rubargli gli enormi stivali e indossarli. Siccome erano stivali magici, si adattarono subito ai piccoli piedi di Pollicino. «Fratelli, ho avuto un'idea, aspettatemi qui», disse, e poi si precipitò a casa dell'orchessa. «Signora orchessa, è successa una disgrazia», gridò Pollicino. «Suo marito l'orco è stato rapito dai banditi e se non lavranno tutto il vostro oro, lo uccideranno». L'orchessa, senza farselo ripetere due volte, prese tutto quello che aveva in casa e lo consegnò a Pollicino, che corse di nuovo dai suoi fratelli. «Con tutto quest'oro e con questi stivali non avremo più preoccupazione, fratelli miei», disse entusiasta Pollicino. Tutti i suoi fratelli gli fecero festa. Ripresero il cammino verso casa, dove arrivarono alle prime luci dell'alba. Entrando Pollicino trovò la loro madre che piangeva disperata. «Mamma, siamo tornati», esclamò. La madre si voltò e corse ad abbracciarli tutti quanti riempiendoli di baci. Pollicino chiese dov'era il loro padre e la madre raccontò a loro che avevano litigato furiosamente a causa del loro abbandono. Così lui aveva deciso di andarsene via per sempre, in cerca di fortuna, da qualche altra parte. I bambini mostrarono alla madre tutto l'oro sottratto agli orchi e Pollicino, il giorno stesso, si presentò dal re, ottenendo un incarico come messaggero privato grazie agli stivali delle sette leghe. La madre era incredula che le loro sorti potessero essere cambiate così tanto in così poco tempo, ma era felice di poter essere riunita ai suoi bambini e la loro famiglia visse per sempre felice e contenta. Fine della fiaba. Spero vi sia piaciuta. Vi aspetto con un'altra bella fiaba qui su Fabulinis. A presto, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!